Come al solito facciamo il nostro punto su chiarimenti normativi, le domande dei nostri associati in compagnia dell'Avvocato Claudio Venghi. Buonasera Claudio. Buonasera, buonasera a tutti. Insomma c'è sempre ormai, potremmo dire da un anno questa parte, un po' di incertezza sulle aperture, sulle chiusure. Adesso a un passo da febbraio sono in tanti a chiederci relativamente proprio a che cosa può aprire, che cosa non può aprire. Lei è avvocato a un anno praticamente dalla pandemia, come la vede? Ma dunque sì, il tema delle aperture e delle chiusure oggi sta diventando pesante, perché abbiamo imparato a conoscere ormai i DPCM, le regole, ma abbiamo anche una situazione in cui molte aziende si sono organizzate con i sistemi di protezione individuali, con il distanziamento, le mascherine, con tutte le regole e poi si trovano da una settimana all'altra a dover chiudere, riaprire, chiudere, riaprire, cioè non sanno neanche come programmare il futuro e l'attività aziendale. Allora il tema dovrebbe essere questo a nostro parere, che in questa situazione, quindi oggi, le aziende dotate appunto di tutti i sistemi di protezione individuale, di tutte le misure di sicurezza, possano tutte aprire, rafforzando queste misure. Quindi il tema non è l'apertura, io posso aprire, io non posso aprire, ma è, io metto in campo tutte le misure di protezione e di sicurezza, quindi il distanziamento, le mascherine, tutti i sistemi di protezione, la possibilità di entrare un cliente alla volta, due clienti alla volta, con un numero ben preciso e con dei controlli anche rafforzati, ma aprendo. Non ha molto senso in questa situazione che aziende analoghe, con attività analoghe, possano una aprire, l'altra no. Possano aprire da una settimana a sé, una settimana a sé, cioè non siamo più nel periodo di aprile, di marzo del 2020. Parlo di Regione Lombardia, cioè i dati sono questi, e allora noi dobbiamo andare verso un'apertura generalizzata, ma controllata. La polemica di questi giorni, anche sul Festival di Sanremo, rispetto alle aperture dei teatri, pensiamo che il mondo della cultura ha un indotto di artigiani, sarti, designer, di situazioni che lavorano per i teatri che sono drammaticamente fermi da oltre un anno. E allora queste aperture dovrebbero essere controllate, con la possibilità appunto di avere queste protezioni, questi sistemi di sicurezza, ma generalizzate. Questa è la situazione a cui si dovrebbe tendere in questo momento, altrimenti lavorare ancora sul posso aprire, non posso aprire, in questa situazione, e con anche alcune disparità di trattamento, proprio dovute al dato normativo, diventa complicato. E le aziende fanno veramente fatica in questo momento, anche a capire il perché di certe situazioni. Esatto, è proprio questo. Si dovrebbe andare verso il rafforzamento dei sistemi di protezione e delle regole, ma nell'apertura però, nelle aperture appunto per tutte le attività, in modo che anche si cerchi di ripartire e di riavviare una ripresa economica che diventa davvero difficile. Sì, è proprio questo, avvocato, il tema della continuità, del costruire appunto anche una ripresa economica, insomma, con continuità per le imprese. In sicurezza, ma in continuità, questo è il tema. Anche per programmare gli investimenti, programmare, sappiamo che adesso arriveranno anche i temi fiscali, i temi dei licenziamenti, c'è tutta una serie di situazioni che vanno a maturare, perché dal punto di vista normativo sono rimasti sospesi, ma il tema degli sfratti, cioè ci sono tutta una serie di... E allora è chiaro che anche le aziende devono programmare la loro attività per il 2021, e bisognerebbe andare in quella direzione. Assolutamente. Io le faccio una domanda flash relativamente a un nuovo bando che è uscito qui in Regione Lombardia, è l'avviso sì, Lombardia 2 bis, che va a ampliare la platea relativamente a delle misure di cui noi, anche l'anno passato, abbiamo parlato più e più volte. Appunto sì, Lombardia ha questo aiuto alle imprese e a privati con partita IVA che hanno l'opportunità di accedere a questo contributo una tantum. Che cos'è questo sì, Lombardia 2 bis? Sì, ho qua la scheda. Allora, è una dotazione di 18 milioni di euro di Regione Lombardia. I beneficiari appunto sono i lavoratori autonomi con partita IVA, attiva, non iscritti a registro imprese, in particolare per la filiera dei servizi alla persona, intermediari, agenti, rappresentanti, la filiera dello sport, la filiera del turismo, ci sono appunto, c'è l'elenco nella delibera regionale. Il contributo è 1000 euro, quindi è un aiuto a fondo perduto che non va a formare reddito. Le domande dal 1 febbraio al 5 febbraio, sia per la finestra 1, sia per la finestra 2, tutto con il telematico sempre, è tutto specificato, è tutto scritto nel sito di Regione Lombardia. Quindi è un altro aiuto anche per queste categorie verso la ripartenza. Perfetto, è chiarissimo. Quindi io invito ovviamente anche a seguire la pagina di Confergianato, il sito di Confergianato, dove c'è appunto l'ufficio Bandi che potrà aiutarvi anche ad accedere a questo contributo e capire se avete requisiti. Io la ringrazio, Avvocato, per essere venuto qui e ci vediamo settimana prossima. Buona serata a tutti.